Qui con me questa sera Pietro Lucchese, partner di Info Spettacoli di Udine e dell'azienda Next Relection. Buonasera. Grazie, buonasera a te tanto. Allora Pietro, parliamo un po' della tua azienda, di che cosa si occupa? Next è un'agenzia di comunicazione, ormai sono 34 anni che facciamo questa professione, un'agenzia di relazioni pubbliche a servizio completo. Siamo associati una, la principale associazione di categoria, operiamo su tutto il territorio nazionale, abbiamo diverse specializzazioni, le relazioni con le istituzioni, i temi della sostenibilità e da un paio di mesi con l'ausilio di una innovativa start-up di giovani abbiamo creato una brand division per la costruzione dei cosiddetti loghi sonori. Questa è un'assoluta novità. Il logo sonoro è sostanzialmente un'identità non visiva ma auditiva. è nata parecchi anni fa, è forse famosa, i loghi sonori Audi, McDonnell, Hyundai, Netflix. Quando si sente questo sonoro? Noi siamo creatori di questo, siamo creatori di questo, abbiamo creato questa divisione e c'è questo spirito di iniziativa estremamente gradevole con questi giovani che sono tutti intorno sotto i vent'anni e quindi riusciamo a costruire anche dei nuovi posizionamenti. Questa è una delle tante cose che fa Next. Pietro, ascolta, com'è stato l'incontro con Daniele Paoli, con Info Spettacoli? Com'è nata questa partnership? Sì, con Daniele Paoli è venuto a trovarmi in ufficio lui attraverso un amico comune. È stato carinissimo, c'è stata subito chimica tra di noi e poi purtroppo c'è stato il Covid ma adesso sostanzialmente ripartiremo in un modo molto dinamico perché abbiamo degli incroci clientelari quindi diciamo noi abbiamo un parterre di diverse tipologie merceologiche, nostri amici, affezionati clienti che hanno evidentemente bisogno di poter esprimere il loro prodotto e la loro visibilità anche attraverso questi eventi che Daniele organizza in un modo, devo dire, ineccepibile per la location, per la cura, proprio Info Spettacoli. Poi diciamo che c'è un fattore di affinità toscana che io sono un grande amante della Toscana e lui è toscano quindi fa la differenza, diciamolo. Grazie mille, buona serata. Grazie, grazie gentilissimo.